Ho avuto l'idea di raccontare, raccontare perché anch'io fino a qualche anno fa non sapevo come era nato il Comitato. Bene, adesso l'ho saputo e lo voglio far sapere, conoscere alle nuove generazioni, perché i ragazzini, sì, vedono il calcito, ma non sanno chi è Barulli, non sanno nulla di questa storia, che dura da 46 anni. E poi ho voluto coinvolgere in questo spettacolo le scuole aretine, ovvero liceo teatrale Colonna, liceo musicale Francesco Petrarca, liceo multimediale coreutico Piero della Francesca. Insieme a loro ci sarà anche la filarmonica Rosini del maestro Andrea Meucci e la regista di tutto questo spettacolo sarà Amina Kovacevic insieme al fratello Uberto che segue le azioni mimiche. L'idea l'avevo buttata là a Cinzia della Ciana, che ha scritto un bellissimo testo dove racconta la storia. Quindi è una città sostanzialmente che racconta questa storia? Sì, soprattutto è una città di ragazzi, perché le scuole sono il futuro dei ragazzi e non solo i licei, ma ci sarà anche, ora non posso svelarti i segreti, ma l'esercito dei cappellini gialli del mercatino che farà irruzione e ci sarà un gran finale, speriamo, insomma, bello e piacevole, sì. È una storia che, appunto, come diceva Greta, gli aretini forse non tutti conoscono, ma è sicuramente una realtà che gli aretini, come dire, è la loro, no? Però non la diamo più scontata, perché non è un qualcosa che esiste proprio in maniera così capillare anche nelle altre realtà. Insomma, è quasi, non dico un unicum, ma quasi. Ma dunque, intanto non è scontata, è la verità. Molti aretini conoscono il calcit e magari alcuni non lo conoscono, diciamo, più in profondità. e questo, appunto, è un po' lo scopo di questo racconto spettacolo che, appunto, ha l'obiettivo di far conoscere anche a quei pochi aretini che magari qualche particolare gli è sfuggito alcune cose che hanno permesso, appunto, di andare avanti per 46 anni e di trasmettere, diciamo, un po' e coinvolgere tutti i cittadini perché oggi ad Arezzo ci sentiamo tutti coinvolti in questa, diciamo, attività, in questo impegno che ha determinato le sorti della nostra sanità pubblica e ovviamente con questo racconto, insieme anche ad altre cose, vogliamo che anche i giovani, già i ragazzi da 10, 12, 13 anni cominciano a capire cos'è il calcit in modo che possa andare avanti il più possibile con queste caratteristiche che sono caratteristiche, se non uniche, rare perché è difficilmente riscontrabile un'associazione che mediamente investe sulla sanità pubblica circa un milioni di euro all'anno che non ha dipendenti, che è tutto gratuito che, appunto, molti non ci credono ma la realtà è questa e è il motivo per cui ad Arezzo il calcit, diciamo, è apprezzato. Ecco, forse l'aspetto unico è proprio questo, no? Che in virtù delle donazioni e del fatto che comunque voi conoscete anche per i malati, ovviamente, con cui avete a che fare gli aspetti della sanità fate un po' parte anche della politica sanitaria di questa città. Certo, ovviamente quando abbiamo fatto delle donazioni particolarmente importanti come i due centri oncologici che abbiamo fatto la politica sanitaria l'abbiamo indirizzata quando ci siamo un pochino, diciamo, battuti per avere certi servizi che a Arezzo non erano previsti tipo la PET, tipo la robotica ovviamente abbiamo forzato un po' la politica sanitaria portando ad Arezzo dei servizi che ancora comunque in mezzo a Toscana non ci sono. Una serata che abbiamo capito sarà molto partecipata ma i cittadini comuni potranno comunque partecipare o sarà un po', come dire, il teatro sarà un po' gremito? Allora, abbiamo avuto un piccolo problema appena abbiamo messo il manifesto online è sold out quindi comunque abbiamo già pensato a fare delle repliche anche più di una insomma, chi non potrà il 15? Purtroppo il Teatro Petrarca ha 400 posti comunque, replicheremo Perfetto